buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di missioni ruolo 2023 2024 del contingente in ruolo e della calveloce domanda numero 1 quanti posti saranno destinati per le prossime missioni ruolo 2023 2024 allora per l'anno scolastico 23 24 ci saranno da un minimo di 90 mila un massimo di 95 mila posti vacanti disponibili dell'autonomia scolastica cioè del posti dell'autonomia organico dell'autonomia per le prossime emissioni ruolo il contingente per appunto il 2023 2024 punta ad assegnare circa 57 mila posti ai nuovi docenti di ruolo si tratta di circa 36 mila su posto comune e circa 19 mila su posti di sostegno domanda numero 2 da quali gradatorie si attingerà per le emissioni ruolo del personale docente e del personale ata la prima parte di missioni ruolo si divide tra emissioni ruolo da gradatori di merito per quanto riguarda i docenti dei concorsi ordinari da cui si andrebbe a reclutare circa il 50 per cento degli eventi diritto e dalle gradatorie a esaurimento dalle gae l'altro 50 per cento il problema è che le gae sono molto spesso esaurite per lo più nelle classi nelle nell'ordine della scuola secondaria di primo e secondo grado e questo comporterà che le catre ritorneranno indietro e saranno destinate in gran numero ai concorsi ordinari che comunque anche questi si stanno diciamo esaurendo come il concorso 2016 come il concorso 2018 c'è ancora in piedi il concorso 2020 anche per le classi di concorso stem e dei suoi idoni per quanto riguarda il concorso invece straordinario 2020 i posti sono accantonati e si procederà con l'accantonamento per il personaleata invece si andranno ad assorbire le emissioni in ruolo dalle gradatorie provinciali permanenti cioè quelle che sono le così chiamate gradatori 24 mesi in cosa consiste il l'immissione il ruolo della cosiddetta cal veloce allora dobbiamo dire che dopo aver concluso l'immissione il ruolo dalle gradatorie rimedie delle gae abbiamo visto come dovrebbe essere un 50 50 per cento ma questo diciamo non sarà così per effetto di poche migliaia di docenti presenti nelle gae qualora restassero dei posti vacanti non assegnati e ne resteranno sicuramente anche per quanto riguarda i posti di sostegno ci sarà l'opportunità di fare la domanda di cal veloce verso quella regione o le province di una data regione in cui ci sono disponibilità di posti se per esempio qualcuno non entra in ruolo nella provincia di reggio calabria nella provincia di catania però si rendono per quella classe di concorso posti disponibili nel piemonte piuttosto che nella lombardia il docente inserito in gae o inserito in cm in sicilia o nella provincia di catania in gae o di reggio calabria o in calabria può fare domanda verso la regione lombardia e con la cal veloce per ri e essere inseriti il ruolo in quella con quella gradatoria e in quel territorio benissimo e questo vale anche per i posti di sostegno dalla prima fascia cioè ci sarà anche in per costoro una volta se dovessero rimanere disponibili ultimi posti di sostegno una mini cal cioè una cal veloce proprio diciamo che sarà applicata proprio per chi si trova nelle gps di prima fascia di una provincia in cui non è potuto entrare ruolo se si rendono posti disponibili in un'altra provincia di un'altra regione allora potrà si potrà anche per chi è in gps prima fascia optare per la cal speriamo che queste risposte a queste domande importantissime tra l'altro di un argomento molto sentito siano stati utili ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social facebook youtube sul nostro sito www.tecniascuola.it perché parleremo di questo argomento e di tanti altri argomenti arrivederci alla prossima